Don Giuseppe Merlini, parroco di Leffe, si entra in una settimana importante per la vostra parrocchia. 150 anni della parrocchiale, tanta storia alle spalle. Sì, allora noi innanzitutto festeggiamo i 150 anni. Il 28 settembre del 1874 il parroco con i sacerdoti presenti decisero di consacrare la Chiesa. Questo non vuol dire che non c'era prima, è che essendo stato un cantiere continuo la Chiesa è sempre stata modificata dagli altari laterali fino alla facciata. E quando Don Viani e Don Ambrosioni hanno deciso di consacrare è perché molto probabilmente tutto era stato ormai concluso. Questo non vuol dire che non c'era prima la Chiesa. Nel 1600 abbiamo la chiesina, chiamiamola così, nata vicino al cimitero e poi nel circa 1700 si è iniziato a costruire l'attuale, sopra la Chiesa esistente. Tanto è vero che con l'edito di Napoleone poi il cimitero è stato spostato fuori dalle mure della città e abbandonato quello che si trova anche sotto la Chiesa attuale. La Chiesa è stata man mano modificata e finalmente nel 1874, il 28 settembre, vigilia della festa del Patrono, San Michele Arcangelo, è stata consacrata. E adesso sono giorni di festa, tante iniziative religiose e non? Abbiamo già iniziato domenica, sabato domenica scorsa con alcune visite guidate sia alla Chiesa, sia alla Sagrestia, sia anche al Campanile e poi domenica scorsa il Coro dell'Immacolata è venuto anche a proporre un'elevazione qui da noi. Questa settimana, mercoledì alle 17, faremo una paraliturgia invitando soprattutto tutti i ragazzi mostrando tutti quei gesti che sono stati compiuti durante la celebrazione di 150 anni fa facendo capire loro il valore che può avere anche la Chiesa all'interno di una comunità. Sabato nel pomeriggio continueranno le visite guidate ma alle 17 ci sarà un'unica messa invece delle due prefestive dove rivivremo nella liturgia questi gesti, l'apertura della porta, l'accensione delle candele sulle colonne logicamente non faremo l'unzione dell'altare perché è già stato fatto in tempo che fu però ricorderemo tutti questi gesti con la popolazione. E domenica mattina, giorno di San Michele, solennità di San Michele, ecco presenzierà la messa delle 10 Monsignor Paganelli che era nunzio in Sierra Leone e subito dopo la messa viveremo la processione con la statua di San Michele nel centro storico perciò passeremo proprio in via San Michele dedicata al nostro patrono. Protagonisti anche i campanari e il campanile? Allora sì, si è voluto anche aprire il campanile ormai sistemato da alcuni anni grazie a una donazione per far sì che la gente vedesse anche la cella campanaria e come i ragazzi che hanno costituito il gruppo delle campanine e dei campanari si mettono all'opera per suonare le allegrezze. Tanto è vero che già domenica molti hanno potuto salire sulla cella. Un piccolo aneddoto, un bambino è salito tranquillamente nel momento in cui ha visto suonare tutto contento quando si è accorto che doveva poi scendere dalla scala che non è proprio così bella, simpatica, si era messa a piangere si è collegato al padre e non si staccava più. Questo per dire che non è proprio così semplice andare in cima al campanile perché ha una sua pericolosità però è tutto in sicurezza e i ragazzi salgono ben volentieri per allegrare il cuore delle fesi.